VANGELO DEL GIORNO Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli, ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose, certo signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli rispose, certo signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse, mi vuoi bene? E gli disse, signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecorelle. In verità, in verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio e detto questo aggiunse, seguimi. La lettura del Vangelo del giorno è offerta da www.preghiere.eu Visita il sito per conoscere i suoi contenuti.